Da quando non esistevano tutti i catenni che esistono oggi e l'unico gioco era assata io ero negozio e mia mamma per farmi aiutare faceva così e metteva su me le nocchia e facendomi sadare cantava tiri tuppi e tiri bad quando suoni così bad e io lo rispondero con un numero e diceva 5 per esempio e io rispondeva 5 riciste malo faciste 6 ricevuto buono facevuto tiri tuppi e tiri bad quando suoni così bad e sei sei riciste malo faciste 5 ricevuto buono facevuto tiri tuppi e tiri bad quando suoni così bad e così io mi avendo per tanto tempo minchia non si stava mai quanto erano queste cose di bad ma poi che cosa erano queste cose e mi viene un dubbio ma non è che io proprio peccisto che io e io sono asciutato in bambito boh